Mi è capitato di vedere un altro ennesimo servizio sulla stessa emittente della televisione pubblica nella quale si equiparava la cittadella giudiziaria di Salerno a quella di Reggio Calabria che è un cantiere broccato dal 2009 e soltanto la scorrettezza, la somareria giornalistica può presentare un'opera come la cittadella giudiziaria di Salerno nella quale si sta lavorando in queste ore che è un cantiere aperto nel quale si stanno trasferendo le attività giudiziarie a cominciare all'archivio nel quale a febbraio si completano le prime tre palazzine come un'opera incompiuta. Ma insomma, io ormai ho fatto l'abitudine, mica mi aspetto che qualcuno abbia la correttezza di parlare di cose che conosce. Siamo un paese nel quale ormai si lavora neanche più sugli articoli di giornale ma ormai sui titoli delle agenziglie perché anche il giornalismo corretto è un'attività molto faticosa, molto faticosa se deve essere un'attività di eccellenza.